Buon pomeriggio, elettori di Montenero Notizie. Siamo in compagnia della sindaca di Montenero di Pisaccia, Simona Conducci. Parliamo oggi di vari argomenti, tra questi la questione della foce del trinio, del colore che muta, daremo qualche risposta, speriamo. Poi del progetto che è proprio di questi giorni, chiamato vicino a V e poi qualche altra domanda a carattere politico, vediamo un attimino come come ci come si svolge. Partiamo dalla prima questione quindi sindaca. La la foce del trinio, riassumiamo per chi non avesse seguito la vicenda, dal ponte del della ferrovia fino alla all'Adriatico, quindi alcuni centinaia di metri, il colore del fiume cambia, diventa più scuro e questo è stato possibile con le foto fatte dal drone perché dal basso non si vede. Foto che abbiamo pubblicato su Montenegro Notizie giorni fa che hanno fatto anche certo scalpore e l'atteggiamento di Montenegro Notizie è stato quello di cautela, nel senso di di chiederci che cos'è, senza testare allarme. L'argomento è stato discusso anche in consiglio comunale. Quando sono passati diversi giorni, cosa possiamo, qual è lo stato dell'arte, cosa possiamo dire ai ai lettori, alla popolazione? Buon pomeriggio Rossano, buon pomeriggio a tutti. Allora ehm diciamo che al momento noi siamo in possesso di una relazione dell'ARPA che ci attesta allo stato di sufficienza eh delle condizioni della del fiume Trinio. Ehm io personalmente eh ho mh chiesto all'ARPA dei prelievi eh il 6 febbraio quindi subito dopo le famose riprese della del drone e mh so per certo che sono state fatte sia a monte che a valle della della del depuratore all'interno dell'alvio del fiume. Ehm la dottoressa Cerroni che io sento abbastanza spesso eh mi ha anche comunicato che l'attenzione sul fiume massima e eh che certamente eh diciamo ci saranno degli interventi più puntuali e costanti eh di verifica appunto delle condizioni della del fiume stesso. Bene quindi possiamo in qualche modo rassicurare i cittadini a questo punto che non c'è. Al momento sì poi magari riprenderemo al momento sì poi magari riprenderemo eh non appena saremo in possesso di di queste analisi che sono state fatte i primi di di febbraio perché così almeno avremo una situazione più chiara. È logico Rossano che ehm la presenza del depuratore è una presenza che eh ci ci fa stare tutti in apprezzione però dobbiamo anche stare attenti ai messaggi che lanciamo e soprattutto per non disattendere tutto il gran lavoro che si sta facendo per il contenimento della delle missioni od origine che provengono dal depuratore. Eh questo perché? Perché si è aperto un tavolo tecnico perché in questo momento eh ci sono delle centrali inattive eh perché si sta coprendo un canale perché sono in fase di copertura anche le vasche eh e soprattutto perché io ritengo e l'ho già detto che tutte queste misure non bastano per cui dovremmo eh attivare delle altre iniziative che saranno sicuramente iniziative importanti e e quindi è necessario eh lavorare con cautela perché ripeto eh adesso confondere quindi eh la eh situazione delle acque con la situazione delle missioni od origine del depuratore potrebbe eh creare anche una diciamo una confusione ulteriore che non serve al lavoro che stiamo facendo che è un lavoro importante che hm finora devo dire la verità non è stato fatto non è stata presa la situazione ehm di petto come eh ha fatto la regione e tutti gli enti preposti eh insieme al comune. Bene. Passiamo a un altro argomento che è di strettissima attualità che è il progetto vicino a V che è un progetto abbastanza grande un milione e settecentomila euro se non sbaglio coinvolge tre comuni Montenero, Piedacciato e San Giacomo e riguarda soprattutto la popolazione anziana. Vogliamo spiegare che cos'è? Ehm visto che sono partite anche se si possono già presentare le domande e quindi come fare insomma. Sì. Al momento sono stati pubblicati gli avvisi sia per selezionare appunto i settanta le settanta persone over sessantacinque che avranno la possibilità di accedere a questi servizi in tre paesi Montenero, Petacciato e San Giacomo ovviamente in proporzione alla grandezza dei al numero della popolazione la grandezza della del paese. Questo ehm ci sarà c'è insieme a questo un avviso di selezione per anche dei profili eh parliamo di assistenti sociali parliamo di os parliamo di assistenti domiciliari di fisioterapisti infermieri di comunità e di ostetrica e è prevalentemente rivolto agli anziani agli anziani con un certo reddito quindi ci saranno delle fasce che verranno considerate in base al reddito in base al grado di invalidità e in base al fatto che sono più o meno sole nella nel nucleo familiare e tutto ciò comporterà diciamo un alleggerimento questo progetto è pensato per alleggerire le strutture sanitarie per mantenere il più possibile delle persone eh anziane a casa ehm la la cooperativa che ha vinto il consorzo scusami che ha vinto il consorzo di cooperative che ha vinto eh questa gara ehm ha già individuato una sede e quindi nei prossimi giorni insomma ehm devo dire con grande velocità ehm inizieremo un po' tutte le le attività che sono contemplate eh ve ne cito alcune eh l'infermiere di comunità significherà che eh banalmente per fare eh diciamo eh una medicazione oppure se bisogna fare un trattamento eh ci sarà un infermiere a disposizione in una sede che presumibilmente sarà quella della sotto diciamo i locali della polizia municipale ehm piuttosto che magari eh questo infermiere potrà andare anche a domicilio nelle situazioni più più gravi poi ci saranno il fisioterapista il fisioterapista che potrà andare sia a domicilio appunto per delle degli anziani che sono in condizioni di difficoltà però eh ci saranno anche ci sarà la possibilità di poter ehm fare dei corsi e quindi di poter fare una riabilitazione personalizzata oppure di gruppo. La cosa molto simpatica è che mh ci saranno a disposizione degli autisti quindi degli operatori che potranno portare eh gli anziani a fare delle visite ovviamente non potranno portare tutti solo quelli che dimostrino di non avere altra possibilità se non quella di essere trasportati quindi visite eh anche se devono fare dei trattamenti particolari eh delle analisi cliniche quindi questo ovviamente alleggerirà anche sicuramente i caregiver cioè i familiari laddove non è possibile per loro ehm diciamo accompagnare i parenti in nei nei decorsi delle delle malattie soprattutto dovute all'incalzare dell'età e poi ci sarà anche l'ostetrica l'ostetrica a disposizione delle delle donne in stato interessante delle nostre concittadine e non solo per fare dei corsi delle iniziative appunto per ehm per rendere il parto il momento del parto più più rilassante possibile. Quando finiranno questi soldi? Cosa succede? Va avanti questo progetto? Eh vedremo innanzitutto e allora il fatto che non sia più PNRR è diventato della coesione eh potrebbe significare che magari c'è l'interesse eh di continuare queste iniziative e di rimetterle a bando e quindi vediamo e poi vediamo vediamo come va eh dobbiamo vedere anche la risposta che ci sarà come sarà strutturato insomma io ehm ritengo che nel nostro paese che un paese dove ovviamente c'è un'alta percentuale di anziani ehm ci sarà una buona risposta quello quello sicuramente e anche in termini di occupazione perché sono sono state individuate in diverse figure quindi sicuramente una una buona una buona iniziativa. Alleggeriamo come ti dicevo le strutture ospedaliere tant'è che vorrei coinvolgere anche l'ASREM eh almeno da un punto di vista della comunicazione eh però eh non l'abbiamo mai fatto quindi dobbiamo vedere come se ci saranno delle criticità dei punti magari che sono maggiori che possiamo anche con le nostre forze riproporre eh alcuni magari che non che non sono ehm non saranno richiesti quindi magari li possiamo anche cassare è una sfida e quindi la dobbiamo un po' organizzare ehm una cosa ci tengo a dire il progetto è tarato su 70 anziani ma 70 anziani che hanno diciamo diritto all'assistenza domiciliare però ci saranno tanti altri anziani che potranno beneficiare delle misure previste del fisioterapista per esempio dell'infermiere di comunità e della dell'autista per appunto transitare eh gli anziani nelle nelle varie visite che devono fare quindi di fatto coinvolge l'intera popolazione over 65. Allora eh a questo punto la domanda può essere ma per gli anziani questo bel progetto vicino a V eccetera eccetera e per i giovani? Innanzitutto dobbiamo dire che eh questo progetto eh è frutto di un ehm finanziamento di un bando eh PNRR e devo dire che siamo stati brevi e non dimentichiamo questa è una cosa importante che insieme a questo a questo noi realizzeremo riqualificheremo i campi da tennis dovrebbero essere a primavera in oltrata questo per noi è stato anche un grande riguardo eh un altro un altro bando aperto che mi piace ricordare è quella di è quello di spiaggiabile che renderà le spiagge inclusive ma spiaggiabile non è solo spiagge inclusive perché spiaggiabile rappresenta un'opportunità sia per i ragazzi e diversamente abili che vorranno ehm diciamo avere un'opportunità di lavoro eh perché saranno adeguatamente formati e saranno anche ehm avranno la possibilità di di fare degli stage sulle nostre spiagge ma ci sarà anche la possibilità di creare delle figure apposite che sono i disability manager e quindi ci saranno delle opportunità anche per per coloro che eh magari già sono inseriti in questi contesti e vorranno fare ehm una formazione ulteriore inoltre per le nostre attività ricettive sarà possibile eh formarsi formarsi anche per ehm attrarre un turismo non solo diversamente abile ma un turismo ehm che so delle donne non è stato di gravidanza perché l'inclusività anche questa eh di mh persone che magari ehm preferiscono o devono eh avere una un certo tipo di mangiare un certo tipo di cucina quindi ci sono c'è tutta una serie di eh ci sono tutta una serie di aspetti legati a spiaggiabile e poi io immagino eh la ciclovia adriatica eh quella la ciclovia io credo che ci darà una grande spinta eh perché ci darà la possibilità di creare degli hub degli hub che saranno dei punti di ristoro per il noleggio delle biciclette di eh e quindi ci sarà una grande valorizzazione della nostra marina poi eh diciamo che eh un'amministrazione deve creare opportunità e le opportunità eh devo dire mh e non mi sarei aspettata molto sono ripartite l'altra sera con grande entusiasmo nella prima riunione che si è fatta a Montenero del Gal e io sono stata una che aveva tante remore sulla nostra permanenza nel Gal mi sono convinta perché eh ho trovato l'entusiasmo di alcuni imprenditori locali e devo dire l'altra sera mi sono dovuta ricredere perché ho ritrovato un grande entusiasmo eh c'erano parecchi imprenditori parecchi giovani imprenditori che si vogliono mettere in gioco e che attraverso il Gal vogliono creare rete vogliono rispondere a bandi quindi eh diciamo in questo momento noi abbiamo deciso di restare e mh e di diciamo di aiutare queste questi imprenditori a creare qualcosa di bello che possa valorizzare il nostro territorio quindi le cose che ci sono in campo sono queste io credo molto nello sviluppo della della marina rossano perché vengo da una da una da una zona da un'area interna che è praticamente morta finita e quindi so il valore importante delle zone costiere in termini di sviluppo e credo che lo sviluppo del mare poi se saremo bravi trainerà anche quello del nostro paese attraverso la valorizzazione non dovremmo fare molto ma la valorizzazione di quello che c'è del buon vino del buon cibo del buon vivere l'ultima domanda un passaggio veloce su un aspetto diciamo più politico a Guglionesi si è dimesso il sindaco che non so fino a che punto ci si poteva aspettare un classico pulmino a ciel sereno sul sul lagone politico locale lì a Montenero la sua maggioranza ha avuto dei periodi di crisi l'estate scorsa vabbè cose che abbiamo ampiamente di battute scritto soprattutto la domanda è ma per fare il sindaco eh fare l'amministrazione l'amministratore comunale è così difficile accorre una scorsa così dura visto che Guglionesi si è dimesso dopo nove mesi mi pare Antonio Tomei che è il sindaco di Guglionesi è una persona che che io conosco e conosco perché peraltro noi condividiamo l'unione dei comuni quindi anche eh diciamo alcuni tratti della nostra amministrazione con con Baciano è una grande persona un uomo che io rispetto tantissimo eh io credo che Guglionesi avesse due problemi eh uno politico sicuramente e però l'altro legato proprio alla gestione del comune al personale una situazione abbastanza conosciuta che delicata e che non si poteva risolvere in in qualche mese perché quando poi eh diciamo un comune ehm non ha personale eh o in un comune cominciano magari delle tensioni eh questo si riverbera su una comunità e quindi eh e diventa forse prioritario rispetto eh alla problematica politica eh che sicuramente c'è stata diciamo se vogliamo fare qualche associazione con il nostro con il nostro comune con il comune di di Montenero eh penso ce ne siano molto poche eh perché Montenero ha una situazione del personale fortemente strutturata e io questa questa cosa ci ho tenuto a farla da subito eh a lavorare proprio per eh sistemare eh gli uffici per riqualificare ristabilire la la pianta organica eh che da un punto di vista elettorale di consenso porta poco Rossano tu me li insegni però la il comune di Montenero da diversi miei colleghi è stata definita una macchina da guerra perché noi ci abbiamo puntato tanto e quindi quando un comune è solido da questo punto di vista poi sì certamente ci possono essere i mal di pancia ci possono essere eh appunto le le crisi però eh non si riverberano sulla popolazione quello che è accaduto a Guglioni si credo che sia stato questo cioè che le le problematiche del comune eh abbiano dato mh tanta tensione abbiano creato tanta tensione anche nella comunità e quindi poi le due cose insieme eh abbiano fatto esplodere appunto la situazione che 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 si è verificata. Certo c'è da dire che eh Antonio Tonino c'ha già venti giorni di tempo per per ritirare le dimissioni io spero che lo faccia perché dico sempre che la cosa che si deve che un amministratore deve scongiurare è il commissariamento perché il commissario non è che lo fa apposta ma il commissario non può agire sui servizi i servizi vengono inevitabilmente scalfiti eh ci potrebbero essere problemi legati all'aumento delle tasse e sicuramente anche eh tutti i bandi che magari ci sono cioè non 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 potrebbero essere eh essere intercettati perché oggettivamente un commissario deve fare eh quello per cui è stato appunto indicato quindi c'è sicuramente un deupa per deupa per deupa per avento scusatemi anche della ehm delle iniziative squisitamente amministrative politiche ehm è una una proprio è l'ultima l'ultima spiaggia quindi io spero che Antonio insomma Antonio torni torni al suo posto perché se lo merita. Bene abbiamo finito ringraziamo la sindaca Simona Contucci grazie a voi grazie a te Rossano e alla prossima occasione ciao ciao buona serata Grazie a te Rossano e a te Rossano e a te